Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi parleremo delle importanti rivelazioni di Albano che spiegano la scomparsa e la morte della figlia Ilenia. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. La storia della scomparsa di Ilenia Carrisi è una delle più misteriose del panorama italiano. Nel 1994 la vita di Albano e Romina Power fu sconvolta dalla scomparsa della loro figlia Ilenia. L'ultimo contatto con la famiglia risale al 1 gennaio 1994 quando Ilenia si trovava a New Orleans. Era in compagnia di Alexander Masachela un trombettista di strada con un passato controverso. Da allora non si ebbero più sue notizie. Dopo anni di silenzio, Albano ha rivelato detta gli strazianti sulla scomparsa di Ilenia. In una recente intervista, ha raccontato di un incontro con la figlia negli Stati Uniti poco prima della sua scomparsa. Una sera, Ilenia uscì di casa in uno stato alterato e fuggì. In un momento di disperazione Ilenia iniziò ad urlare, facendo credere alle persone intorno che Albano fosse un malintenzionato. Nel gennaio 2013 Albano presentò istanza di dichiarazione di morte presunta al tribunale di Brindisi. La sentenza fu accolta nel dicembre 2014. Tuttavia Romina Power e gran parte della famiglia hanno sempre sperato che Ilenia fosse ancora viva. Di recente il cantante ha però affermato di sapere come sia morta Ilenia. Secondo Albano, Ilenia, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, si sarebbe suicidata nel Mississippi. Questa rivelazione è contenuta nella sua autobiografia dove descrive il dolore e la disperazione provati durante la stesura di queste pagine. E tu cosa ne pensi dell'amaro epilogo del mistero di Ilenia Carrisi? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.